Squadre che prendono posto sul terreno di gioco, facciamogli sentire il calore del pubblico romano, forza! Si parte! Da questa parte! Vanno a girare bene la palla, blocca senza problemi, fiducia di non sfruttare! E l'efficacia ha interrotto un'azione pericolosa! Pubblico di Roma, fuori la voce, voglio sentirevi gridare! Aprono le ostilità, 1-0! Si riparte! Ferma tutto! Il gol del 2-0! Si torna a giocare! Si oppone da campione! Si torna a giocare! Ma stia! E' un'altra parte! E' un'altra parte! Fatica! Interviene e recupera palla! A un solo uomo da battere Provano il gol Si riprende a giocare Incredibile qui il portiere Uno contro uno Si oppone da campione Cos'ha parato? Un minuto al termine del primo tempo Forza Stoi sin palca Provano il volumen Sul volumen Roma Fatemi sentire 30 secondi E suona la campanella Può segnare qui L'attaccio che si fa Rimbarazzante Partita che potrebbe essere Alle battute finali Se segnano il prossimo Vincono 5 4 3 2 1 4 a 0 Dopo la prima metà di gara E vittoria Che sembra già in cassaforte Per loro Si riprende a giocare Per loro 3, 2, 1 Hai evitato un gol di... Go! Finisce qui! Lanco, sei dalla nuova! Un applauso a questo grande pubblico e alle tue squadre per averci regalato documenti di grande calcio!